Sì, è partito fare i conti con l'ambiente, siamo molto contenti anche quest'anno questa manifestazione che occupa tutto il centro storico della città di Ravenna con una serie di iniziative e di incontri assolutamente interessanti. I temi sono di grande attualità, rifiuti, energie, ambiente, acqua, quindi sicuramente molto coinvolgenti, di alto spessore, di alto livello ma aperti a tutti, quindi molto bella questa possibilità per tutti di avvicinarsi a questi temi, di approfondire queste tematiche e di farlo nel bellissimo centro storico di Ravenna e come sta succedendo a me in questo momento, saltare di sala in sala per cercare di capire quanto più possibile della manifestazione.